27 febbraio 1902 Nasce a Salinas in California John Ernest Steinbeck, l'autore di Furore, è considerato il miglior romanzo mai scritto sulla Grande Depressione e sull'America degli anni 30. Autore di numerosi altri libri, sceneggiature e pièce teatrali, a Steinbeck viene conferito nel 1962 il premio Nobel per la letteratura. Da alcuni dei suoi romanzi sono stati tratti film importanti come Uomini e Topi per la regia di Lewis Milestone, Viva Zapata e La Valle dell'Eden per la regia di Elia Kazan e lo stesso Furore diretto da John Ford. Salinas, piccola città della California del Nord, è oggi un industrioso centro agricolo e commerciale, ma la sua fama nel mondo è legata soprattutto all'opera narrativa di un suo illustre figlio, lo scrittore John Steinbeck, che di Salinas e della sua valli è stato instancabile cantore. Quando Steinbeck vi nacque il 27 febbraio 1902, Salinas era poco più di un polveroso paesotto rurale di appena 3.300 abitanti. Oggi ne accoglie oltre 100.000 e i suoi confini si estendono sino ad inglobare le campagne e i boschi circostanti, pur lasciando quasi incontaminata la bellezza della natura di questo angolo di California.